L'autore non ha bisogno di presentazioni, Mario Mori, ex generale dei Carabinieri, processato e assolto per la mancata perquisizione nella casa, dove si interruppe la latitanza del boss mafioso Totorina, oltre il terrorismo e il titolo del suo secondo libro presentato a Napoli durante un dibattito moderato dal giornalista Gianfranco Coppola, a cui hanno preso parte anche gli ex procuratori Gian Domenico Lepore e Giuseppe Galgano, a organizzarlo l'Associazione Meridiani, presieduta da Giuseppe Cortese. L'Associazione Meridiani è da anni che persegue questo progetto, che è quello di coinvolgere sui diversi temi che vanno dal terrorismo, ma ai temi sociali, ai temi della cultura, con la presentazione di una serie anche di libri. Nel libro il fondatore del ROS, ed ex direttore dei servizi segreti del SISDE, analizza i meccanismi che hanno innescato gli attentati che hanno sconvolto l'Europa negli ultimi anni. Il terrorismo sia in una fase iniziale, è un contrasto di tipo militare, ma poi soprattutto in prospettiva un contrasto di natura ideologica e culturale. Noi dobbiamo confrontarci con quel mondo che non è la negazione, è l'obbrovio. Il mondo musulmano è portato da una grandissima cultura. Noi dobbiamo eliminare quelle scorie presenti nel mondo musulmane che non sono disponibili al dialogo e incrementare e favorire la grande maggioranza di quel mondo che è favorire al dialogo. Questo è l'intento.